Ci sono novità a circa i sei pazienti che hanno riportato un abbassamento della vista dopo essersi sottoposti ad un intervento di cataratta presso il Policlinico di Bari. Stando alle conclusioni dell'unità di crisi istituita dalla Direzione Generale dell'ospedale, è stato uno dei pazienti giunto al pronto soccorso la sera del 7 marzo ad aver introdotto il batterio che ha provocato l'infezione delle altre persone operate all'interno del reparto di oculistica. Si tratterebbe dunque di un'imprevedibile trasmissione dell'agente isolato da un portatore sano di Staphylococco emoleticus, sottoposto all'intervento chirurgico per primo. I controlli effettuati sulle attrezzature utilizzate durante gli interventi, nonché sull'impianto di aereazione, hanno dimostrato che non vi sono stati agenti infettanti ambientali che hanno determinato il peggioramento visivo dei pazienti. È stata inoltre verificata la correttezza dei cicli di sterilizzazione e tutti i test eseguiti hanno evidenziato il corretto funzionamento dell'autoclave e l'efficacia dei processi di sterilizzazione. Risultano, afferma il Policlinico, come da procedura aziendale, regolarmente effettuati gli interventi di manutenzione. Gli ultimi interventi risultano effettuati il 22 e il 25 febbraio e i valori del monitoraggio ambientale e periodico previsto da protocollo risultano essere nella norma. Il bilancio finale della situazione è di 6 pazienti, 4 ricoverati, dimessi entro 48 ore e 2 trasferiti al miulli. Secondo quanto riferito dal Policlinico, ci sono buone notizie. Vi è un notevole miglioramento del quadro clinico e della funzionalità visiva e uno dei pazienti è stato già dimesso.